Ciao a tutti noi siamo i The Babes Oggi ragazzi E' arrivato il momento The time has come Voi continuate a veramente massacrarci Mi piace su quest'artista Che per noi è un fenomeno Anche per voi E' un reale fenomeno perché c'è ragazzi Ma dove la troviamo un'altra così Che è So Young Io adoro questa canzone Perché noi Perché noi adoriamo Air Nothing Infatti ce l'avete consigliata Molte volte Ma guarda ci avete bombardato di messaggi Su Air Nothing Quindi noi siamo curiosissimi di vedere Come lei interpreta questa canzone Esatto super curiosi Quindi per un'altra reaction di So Young 250 mi piace Che tanto le raggiungete proprio in un attimo Dai scendi Dai C'è ragazzi a voi perché non l'avete visto ma E' la goffa Ah faccio Mi asciugno Mi asciugno Mi asciugno Mi asciugno Mi asciugno Mi asciugno Siamo curiosissimi di fare questa reaction Quindi Iniziamo Banda le ciance Iniziamo subito E va Già mi viene Già mi viene il magone Oddio Oddio Fai questo colore blu dietro Bellissimo Mamma mia Ragazzi la scenografia dietro Ma quanto è bello Wow Mamma mia ma guarda che bello col funo Wow Cioè guarda Mamma mia Mamma mia Questa cosa è pulitissima lei Sì Vero Pazzesco Mangia Che bella Che bella Che bella E poi canta benissimo In inglese E' proprio brava No 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 vabbè E' nel No No Mi sono detto Guarda che bello Che è Sì E' tutto perfetto Hanno una concezione Di estetica Pazzesca Adesso strullerà No No ragazzi Mamma mia Ma respira No No I don't walk away from you No 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 Cioè Winnie No 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 Esatto, io sto così in questo momento Mamma mia Ma io rimango ogni volta sconcertata, è impossibile, cioè è umanamente impossibile avere una voce così e saperla gestire così, è impossibile, è fine, cioè non c'è, non ci stanno altre spiegazioni, è impossibile e basta Questo è un dono ragazzi, è un dono, ci ti ha donato qualcuno, una cosa del genere, come fai, cioè? Noi ci prostriamo Sto ancora in fase emozionante Mamma mia, bellissimo, bellissimo veramente Prendendo No, veramente Turuduntun Turuduntun On parte la musica, quello triste Quindi questa era la nostra reaction Speriamo vi sia piaciuta Io penso proprio di sì, perché va più per la reaction, per lei, cioè come fa non piacervi lei No, veramente, veramente è bella Quindi lasciate una marea di mi piace Facciamo venire in Italia Ma magari Dai, condividete tantissimo questo video Deve venire in Italia La facciamo venire in Italia, dai Quindi iscrivetevi al nostro canale Non può parlare, parlo io Iscrivetevi al nostro canale Ovviamente attivate la campana Per vedere altri video di Soyang Perché ne faremo altri Imbarazzo Quindi detto questo Ciao Bellissima Proprio bella, bella, bella